Siamo arrivati a un momento un po' particolare dove avevamo tre partite importanti e mi ha fatto fare tutte e tre partite, peccato per il risultato di Fano e per il risultato che potevamo prendere tre punti contro una buona squadra come il Monza, però penso che contro il Monza abbiamo dimostrato un ottimo spirito e questo è quello che ci mancava. Per noi sono tutte le gare difficili, sono tutte finali, pensiamo in Ravenna, pensiamo che dobbiamo andare là, dobbiamo fare punti, giocare bene con la stessa reattività che abbiamo fatto con il Monza, con più attenzione e cercare di portare a casa i tre punti. Il gruppo deve essere unito e superare il blackout. Grazie a tutti.